Ciao a tutti gli amici di NonoChef, in questa puntata faremo la panzanella. Grazie per la visione! Grazie per la visione! E adesso? E adesso non ci resta a chi assaggiarla. Vediamo! È un tipo, un tipo di panzanella. Vedendo la panzanella mettono anche il pollo. È buono, eh? Fatelo anche voi! È un piatto unico! Buonissimo, gustoso e sfizioso! Mi raccomando! Digitate mi piace su questo video. Fate conoscere questo canale ai vostri amici. Mi raccomando! Io preparerò sempre un qualcosa di sfizioso. O come solitamente dico, shue shue! Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao! Ehi, ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siamo! Siamo! Ah, siete d'accordo! Siamo d'accordo! Siamo d'accordo! Tu guarda che fino a domani mattina dentro quella boccaggia non ci metti niente, eh? Manco un biglietto! Siamo!